E' così. Eccoci qua, soli insoletti. Maria, ma che ti sei messa in testa? Vuoi creare problemi col comandante? No, ma che problemi? Guido non è geloso. No, e quella volta che gli hai fatto credere che stavamo insieme te lo sei scordata. Sì, stava come un pazzo stava. Mi voleva far fare le ferie estiva a novembre. Babbo, altri tempi. Adesso io e Guido siamo una coppia aperta. Aperta? Aperta a chi? A tutto. A nuove persone, a nuove emozioni, a nuove sensazioni. Ma sei sicura? E lui lo sa? Cioè, il comandante è d'accordo? Sì, quello l'ha voluto proprio lui. Sì. Cioè, Guido non si vuole impegnare. Vuole la sua libertà. E quindi non può fare il geloso. Ecco, e noi abbiamo stabilito che ognuno vede chi vuole. Quindi se io voglio uscire con te, lui non può dire niente. Io oggi voglio passare dalla teoria alla pratica della coppia aperta. Ma tu sto passaggio lo devi fare per forza con me? Ecco chi, se no, Cervuti. Guarda che io ti ho visto su Chain. Sotto quella divisa si nasconde un fisichetto niente male. Lo pensi veramente, Marie? Lo penso e lo scrivo. Ma non li leggi i commenti che ti metto sotto le foto? Perché fai così? Non ti piaccio? No, ma che stai scherzando? Come? Non mi piaccio. Tu sei una donna così... Così? Così... Così come? Donna! Dai, vieni qua. Fatti abbracciare un po', eh? Cerù? La verità? Eri più credibile quando facevi finta. Grazie.